Su donna con le palle crollerebbe qualsiasi gentiluomo. Stefano, l'hai voluto tu, eh? In ordine sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non la ricorda nessuno. Molti invece ricordano personalmente un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava nei bagni dell'università. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi undici romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi rilevanti, lo dicono tutti. Questo non toglie che anche il mio romanzetto giovanile fosse rilevante, su questo ti do ragione. La tua storia con Eusebio. Ma quale? Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti. Da anni, pranzano tutti i giorni da Arnalda al Pantano sotto all'attaccapanni come due innamoratini sotto alla quercia. Lo sanno tutti e fate finta di nulla. L'educazione dei figli che tu condurresti con sacrificio minuto per minuto. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di popper. I due figli stanno sempre senza di te, pure tu durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai per la precisione un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitteri. Insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Queste sono le tue menzioni di fragilità. Stefano, madre e donna, hai 53 anni, hai una vita devastata, come tutti noi. Allora invece di farci una morale, di guardarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sul ruolo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, pigliarci un po' in giro. No, no.